Intervista Marco Testoni, A più B, prima. Vennero 3.000 persone, sull'onda di quello ci siamo trovati in 3 o 400 circa a rispondere a questo appello di cercare di riattivare la cultura, l'arte a partire dal nostro territorio. Io sono Cristian Raimo e sono l'assessore alla cultura del terzo municipio. Quando Giovanni Caudo mi ha chiamato pensavamo che potesse andare così, ma penso che sta andando molto meglio di come pensavamo. Nel senso che questo è un municipio grande come una città, sono 205.000 abitanti, ma c'è un solo cinema, c'è un teatro piccolo che sta dalle parti di Porta di Roma e poi niente. Ci piacerebbe avere un auditorium, ma non abbiamo un auditorium, allora ce lo stiamo inventando. Però grande come una città non è stato soltanto questi eventi, è stato un gruppo di persone che mi sta dando una mano, sempre di più, ormai siamo centinaia. Tutto questo non è un progetto del municipio, non è un progetto dell'assessorato, è un progetto di questa città che noi siamo. E quindi questa cosa insomma la vorremmo portare avanti insieme. All'inizio devo dire, veramente sta roba è davvero emozionata ragazzi. Io ho fatto un servizio a sport, parlamento europeo, è davvero molto meno emozionabile adesso. Io ho fatto un servizio a sport, parlamento europeo, è davvero molto meno emozionabile adesso. Grande come una città. Dopo anni stavo frequentando una persona, dopo sei mesi mi dice, tu sei fidanzata con grande come una città, mi hai rotto i coglioni e se n'è andato. Cioè ragazzi è non nato. Scusa. 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 Scusa.